Oggi Pierpaolo Pretelli ha ricevuto una dolce sorpresa dal cielo, stamattina infatti ha sorvolato l'appartamento di Cinecittà un aereo con un messaggio d'amore per lui. Lo stressione recitava così, Pier se il nostro terremoto 10.0, un messaggio d'amore inviato dalle fan del concorrente Locano. Ad accorgerci del velivolo, Tommaso Ciorzi e Ado del Vesco che hanno avvertito l'interessato. Per Paolo avrebbe accolto con grande sorpresa il tenero regalo. C'entra qualcosa con l'epicentro di Elisabetta? Visto che il testo della dedica aerea ricalcava quella ricevuta dalla Gregoraci, chiede Stefano Orlando. Per Paolo risponde potrebbe. La Gregoraci dal canto suo non si sarebbe ingelosita per il messaggio indirizzato al suo amico speciale. Sboccerà la nuova coppia prima o poi? Staremo a vedere.